buongiorno ragazzi nuovo episodio di alden ring e niente si prosegue dove abbiamo staccato la scorsa volta probabilmente perché avevamo raggiunto il il massimo di dimensione del video e il nostro backup di salvataggio per fortuna ci ha interrotto il video senza che potesse succedere nulla di male meno male ottimo ottimo davvero sì sì più che ottimo un altro pugnale qua dovrebbe esserci un cavallo che non c'è va bene ok addirittura li massacriamo a 2 e 2 ragazzi lancia corta questa non ce l'avevo ottimo ok 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 un altro falchion ok vabbè ok 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 Sarri mi ha mai droppato una torcia Che me la so dovuta comprare Rendetevi conto Vabbè Vabbè comunque raga Iniziamo a vedere se 11.800 Quindi ce ne mancano 700, vediamo un po' se ce l'abbiamo 700 mo Voglio che ce l'abbiamo, ne abbiamo 4 Ottimo 224 e fa 8 E abbiamo un altro livello Ok Nuovo livello Eh ci va bene così, dai tanto Livello 16 E via 195 Ah beh sì perché abbiamo passato Comunque ok Bene bene Perché anche la destrezza Deve arrivare a 20 Benissimo raga sul momento Direi che ci possiamo anche salutare Ciao alla prossima Ciao alla prossima